t più a ts 350 è un po difficile descrivere la bellezza dei bassi riprodotti da una linea di trasmissione è qualcosa di particolarmente piacevole che può soddisfare l'audiofilo per una infinità di tempo in questi diffusori sono presenti bassi più profondi ottenibili di una coppia di woofer da 17 cm in un mobile di circa 64 litri sono bassi di incredibile purezza ed articolazione le tonalità sono quelle naturali e pure dagli strumenti acustici sia ad essi ad arco con i velocelli contrabassi che percussivi come una batteria un pianoforte ciò in parte dovuto all'estrema bassa distorsione fornita con facilità e con un senso di libertà ben lontano da qualsiasi sistema reflex i transitori sono riprodotti con alta velocità e i livelli di pressione di picco rimangono più puliti e nitidi rispetto ad altri progetti bass reflex che molto spesso tendono a sovraccaricare gli estremi questi ts 350 sono un progetto a due vie e mezzo basato su due driver da 170 mm un woofer montato con un cono gray cone rigido che radia solo la gamma dei bassi e il woofer superiore che agisce come midwoofer quest'ultimo è veramente un driver sofisticato il cui cono gray cone è completato da fessure di smorzamento sigillate aggiuntive che impediscono qualsiasi parziale oscillazione e risonanza queste caratteristiche eliminano totalmente la colorazione e la durezza nella riproduzione dell'importante gamma media con il risultato che l'altoparlante suona aperto senza restrizioni e dinamico anche ad alti volumi grazie a tutti